è un feller che evidentemente non vuole perdere questa gara ed ecco che c'è la sostituzione anche nella squadra del Galles sta per entrare Gary Speed, giocatore del Leeds 21enne alla sua sesta presenza ed esce Dean Saunders questo Speed è il più giovane tra coloro che fanno parte non della rosa ma tra gli undici in campo e i cinque della panchina non è il più giovane, il secondo tra tutti coloro che invece appartengono alla rosa dei convocati per questa partita, il più giovane è Cambridge del Luton stavo dicendo che ha solo 21 anni e da un anno è nella rosa della nazionale gallese dunque diamo un'occhiata al cronometro siamo praticamente all'epilogo di questa partita partita che è stata decisa da un gol di Ian Rush realizzato al 22esimo del secondo tempo Brehme, Föller attacca Melville, può andare al cross ecco il cross, Heffenberg e c'è ancora una volta Sautel dicha